Su Accademia.tv ne avete visto di pizze, ma ancora non avete visto la pizza di Franco Pepe, la mia. Ciao, sono Franco Pepe ed in questa Masterclass scoprirai alcune delle mie pizze più iconiche, frutto di ricerca, innovazione e soprattutto amore per il mio territorio. Ti presenterò 6 pizze fritte con forme diverse, con farciture sia salate che dolci. La pizza fritta è il modo migliore per preparare la pizza di Franco Pepe a casa tua. Scopri come su Accademia.tv